benvenuti amici appassionati siamo in compagnia di giuseppe brigilio secondo assoluto radica all sr4 salmo di belmonte mezzagno cosa c'è da aggiungere giuseppe una gran carona ti sei sparato oggi sono felice forse felice poco sono alle stelle perché dopo tante vicissitudine successa in questi giorni con la macchina altre situazioni insomma se non riuscito a venire qui a belmonte ci daremo tutto tantissimo perché il percorso mi piace addirittura fin da piccolo alle 5 6 anni correva mio padre quindi dico e quindi ci tenevo tanto a questa gara ce l'ho fatta a falla ringrazio oltretutto in primis sempre mio fratello per l'accuratezza che fa nel mettere appunto la macchina perché se non avesse lui non potrei fare questi risultati dopodiché sono felicissimo io ripeto sono arrivato ad un secondo dai maschillaci lo sappiamo tutti e va fortissima mina sicuramente una macchina migliore di quella mia ma comunque è onore a lui ma sono dico ripeto siamo felicissimi sono felicissimi quindi va bene oltretutto dico non è che sono uno che corrono ogni domenica quindi adattina che condividi con tuo fratello e quindi e quindi facciamo per per fare un po insomma di nonia a pare dispare questa volta è toccata a me dico e questa è la quarta gara in assoluto che faccio quindi non posso fare un bel secondo assolutamente contento quindi va benissimo così per quest'anno abbiamo finito speriamo l'anno prossimo di insomma di vederci in queste esploi speriamo vediamo vediamo amici appassionati vi salutiamo alla prossima dal bel monte mezz'anno grazie buona serata